Ciao, spero che mi sentiate, io sono Cristina e in questo momento sono a Tenerife, voi penserete che sono così coperta ma perché sono praticamente sotto il Teide, che è questa montagna, quindi sono oltre a 2500 metri. Sono qui per lasciare la mia testimonianza perché io ho incontrato Action4 l'anno scorso e più o meno di questo periodo, credo. Cosa ho imparato? Un sacco di cose in realtà, perché è facile dire voglio essere felice, però sì, voglio essere felice, ma bisogna impegnarsi per esserlo e farla diventare una sana abitudine. Quindi si può allenare, questa cosa della felicità, ho imparato che la felicità è una competenza e la felicità si può allenare, quindi io faccio in modo di affrontare la vita, non per forza ridendo, ok? Perché non sono un giullare, questa cosa di allenare la felicità però è sicuramente qualcosa che a me ha aperto gli occhi e è stato come un pulsante, come un click. Quindi io scelgo di essere felice e di conseguenza, scegliendo di essere felice, mi sveglio la mattina e decido di affrontare le cose in un modo o in un altro, di leggere le notizie in un modo o nell'altro, di ascoltare le persone, di circondarmi di persone che si comportano in un modo o nell'altro. Non sono vittima del mondo, ma non sono gli altri che determinano il mio comportamento, ma io ho il potere di gestire il mio estate d'animo e soprattutto di accoglierli, capirli, gestirli e andare avanti. E tutto questo me l'avete insegnato voi, carissimi Stefano, Beatrice e Cinzia. Quindi non posso far altro che ringraziare, per me è veramente stato, sono veramente molto, molto grata di avervi nella mia vita, di avervi incontrato e di avervi nella mia vita, perché per me siete comunque delle presenze costanti. Un super abbraccio da Tenerife e a prestissimo!